Una rassegna con quattro appuntamenti che valorizza il cinema d'autore realizzato da registi toscani, rappresentanti di una nuova generazione di cineasti che sta ottenendo riconoscimenti in Italia e all'estero e che produce opere con una prospettiva internazionale. Queste le caratteristiche di Cineatelier, che si terrà dal 13 marzo al 5 aprile in un territorio decentrato pratese, Poggio a Caiano, che grazie ad una sua concittadina, l'attrice e regista Emanuela Mascherini, che insieme a Stefano Madieo, direttore del portale cinemateliano.info ha ideato e realizzato l'iniziativa, si candida ad essere un nuovo polo di promozione del cinema d'autore. Emanuela, torni nella tua appoggia a Caiano. Sì, in realtà è giusta, questa osservazione è molto importante perché è proprio un segno che vorrei lasciare, nel senso che io ho avuto tantissimo dai festival e dalle rassegne come attrice, autrice, regista, veramente. Anche l'altro curatore che adesso ha creato e ideato con me questa rassegna, in realtà l'ho conosciuto attraverso un festival, Stefano Madieo, che è direttore di Cinemateliano.info, nonché giornalista cinematografico e critico, e adesso collaboriamo. E quindi i festival sono veramente un punto di incontro fondamentale, sia per gli addetti ai lavori, sia per l'incontro con le audience proprio. E attraverso il contatto con il pubblico, noi autori riceviamo degli importanti feedback che ci servono poi nel nostro percorso, che ci danno un po' la rotta da seguire per anche i progetti successivi. Allo stesso tempo vorrei fare un regalo, fra virgolette chiaramente, alle persone che abitano questo luogo e quindi dare loro la possibilità di incontrare veramente i protagonisti del nostro cinema, del nostro cinema d'autore, senza per forza dover raggiungere dei territori dove queste opere sono più fruibili. L'idea è quella di portare appunto il cinema d'autore in territori decentrati e farlo entrare veramente in contatto con le audience presenti sul territorio e con le nuove generazioni che possono intravedere delle coordinate professionali, proprio attraverso il contatto con questi autori. Il primo appuntamento di Cine Atelier venerdì 13 marzo alle 21 con In viaggio con Adele di Alessandro Capitani, road movie identitario che vede un padre, uno strepitoso Alessandro Haber, combattuto tra i sentimenti verso una figlia che non sapeva di avere e la voglia di inseguire una sempre più inarrivabile carriera d'attore. La proiezione del film sarà preceduta in mattinata con un incontro del regista con gli allievi delle scuole medie poggesi. Si prosegue venerdì 20 con Short Skin di Duccio Chiarini, film di formazione sui dolori del giovane Edo. Terzo appuntamento venerdì 27 marzo con Daphne di Federico Bondi, racconto delicato sulla vita di una ragazza con la sindrome di Down che diventa un sostegno per il padre e la morte della madre. La rassegna chiude domenica 5 aprile alle 16 con Tutte le mie notti di Manfredi Lucibello, thriller psicologico con ambientazioni notturne nelle quali affiora in sottofondo il dramma della prostituzione giovanile, con una bravissima Benedetta Porcaroli che interpreta una baby squillo. Ad ospitare la rassegna il cinema Ambra, uno spazio prezioso in tempi di chiusura delle sale con ben 400 posti, che rappresenta per il territorio di Poggio a Caiano un faro per la promozione culturale. Verranno presentate delle opere prime e seconde alla presenza del regista, quindi occasioni importanti di vedere cinema di qualità, rassegne d'autore in un territorio che forse è un po' battuto, un po' giaccaiano, certo non è Berlino o Venezia, però diamo un'occasione importante di confronto al territorio e anche alle scuole. Al cinema Ambra che è questo spazio straordinario di 400 posti, un cinema storico, l'ultimo rimasto nella provincia di Prato che ha una programmazione stabile. Veramente ringrazio tanto la curatrice Emanuela Mascherini, ringrazio il circolo del cinema Ambra che ha aperto le porte a questa rassegna. Sappiamo che anche nelle città i cinema stanno chiudendo, quindi è un comune così piccolo che possa avvalersi di un cinema che addirittura ha 400 posti. È una cosa bella e importante per promuovere il cinema? È assolutamente, secondo me, una cosa rara e sono molto felice che il comune abbia accettato con entusiasmo questa iniziativa e appoggiato in tutto e per tutto e quando sono tornata qua sul territorio a proiettare l'ultimo mio corto come la prima volta che era stato in selezione ai nastri, quindi abbiamo fatto una presentazione, appunto ho fatto presente che avevano una realtà importante che andava valorizzata, un cinema con 400 posti che è l'unico nell'Interland e che veramente è un luogo prezioso e che va protetto, ma non solo qua, ovunque, perché chiaramente tutte le piattaforme streaming adesso a noi stanno dando una enorme possibilità di fruizione, ma il cinema è il luogo dell'appartenenza, della condivisione, dove veramente possiamo lavorare anche sull'inconscio collettivo, per cui dobbiamo davvero tutelare la sala e farci veramente promotori di eventi come questo.